E' uno spettacolo qua, eh? A lei per caso gioca? Ma quello? Ma il tuo padre? No, oddio che vergogna. Mi ricordo molto bene di quella sua Giuliana. Facciamo perdere, ero solo una dilettante. No, lei mi dispiace contraddirla, ma lei è un'attrice. Come sta? No, no, sta da Dio. Buonasera a tutti! Puoi entrare nel nostro fondo. Ma figlio, come fai a leggere il pensiero? Consiglio di non farti vedere in giro insieme a me, perché sono considerato un soggetto socialmente pericoloso. Io il regalo lo faccio volentieri a te. Grazie, Giovanni. Posso firmare, no? No. Ehi. No! Mi siete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. No, 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 no. Grazie.